Come una gara d'eliminazione, il test di medicina a cui si sottopongono inoltre 72.000 iscritti per uscirne vincitori in quasi 18.000. Una fatica non da poco tra stress e speranze appese alle 50 domande a cui rispondere in 90 minuti. Le prove si svolgono per la prima volta davanti ad un computer ed ogni prova è diversa per ciascun studente. La nuova formula si chiama TOLCA che sta per test online CISIA che è il consorcio interuniversitario. Le risposte producono un punteggio che è reso noto immediatamente allo studente. Le grattatorie usciranno il 5 settembre, una data attesa con trepidazione. È andato bene, mi sento soddisfatta. Penso che forse il livello di difficoltà fosse adeguato, non era troppo difficile. In caso andasse male comunque c'è un'altra azione a luglio, poi dopo proverò l'anno prossimo. Comunque è passata, è andata, è stata più una prova generale questa qui, si riparte più forti di prima per luglio. Qual è stata la parte più difficile? Sicuramente biologia e chimica perché è stato comunque richiesto più preparazioni in assoluto. Ma qual è il desiderio con cui sei venuta qui? Cosa vorresti fare da grande? Personalmente vorrei studiare medicina per poi diventare pediatra. C'è chi la prende bene ed è sicuro di quanto fatto, chi meno, tutti però determinati a diventare medici. Non mancano tuttavia critiche al sistema del test e dei posti limitati per accedere a medicina. Del resto, dicono, non mancano i medici in Italia? Però comunque i medici dovrebbero essere persone che vogliono fare i medici e non persone che vanno là perché non sappiamo cosa fare. Quindi secondo me il numero uso ci può stare, però secondo me la base non è il numero chiuso, per me è l'istruzione italiana.